Lo scorso sabato hanno dato vita ad una violenta rissa in via Miliscola, strada di Bacoli, parallela ritorale occidentale della provincia di Napoli, e lungo la quale si ferve la movida estiva. Sono tutti giovanissimi, molti non raggiungono i 18 anni. Questo non li ferma e armati di coltelli, tirapugni e caschi, decine di giovani si affrontano in una zuffa apparentemente scoppiata per motivi banali. I carabinieri della stazione di Bacoli, grazie alle testimonianze dei presenti, alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in strada e al video virale diffuso in rete e girato da alcuni passanti, hanno facilmente individuato una buona parte dei contendenti. 9 le persone identificate e denunciate per rissa, tutte dell'area flegrea. 6 sono minorenni, il più giovane di appena 15 anni. I militari, inoltre, hanno notificato al proprietario del bar, nel quale si è scatenata la furia dei ragazzi, l'avvio di un procedimento di sospensione. Continuano le indagini per identificare gli altri ragazzi coinvolti.